Da gennaio, servizio anche a domicilio. Prevenire e vivere. Il motto della Lilt, la Lega Italiana lotta contro i tumori della sezione di Sondrio, non è soltanto una frase fatta, ma il principio cardine di un'attività che non si ferma mai. I numeri fatti registrati nel 2016 parlano chiaro. Servizi ed utenza, come ci conferma il presidente Claudio Barbonetti, aumentano sempre più. L'attività ha visto più di 4.000 persone in sede, in particolare quasi 2.000 visite mammografiche, che è il nostro core business, se vogliamo, nel senso che è il primo tumore per il quale noi facciamo prevenzione è proprio quello della mammella e a queste vanno aggiunte anche 1.200 ecografie, quindi tante donne che sono venute da noi. A questo si aggiungono anche visite urologiche, visite dermatologiche, circa 500 pap test e visite ginecologiche, e quindi insomma un'attività per la nostra struttura veramente intensa. Da un punto di vista del quadro economico, grazie alla solidarietà dei nostri concittadini valtellinesi, possiamo dire che abbiamo chiuso il bilancio in pareggio, che è poi il nostro obiettivo, perché essendo una Olus non dobbiamo chiaramente fare utili, quindi direi particolarmente soddisfatti. Per il 2017 l'obiettivo è certamente riconfermare i numeri fatti segnare lo scorso anno, oltre a rafforzare un importante progetto lanciato di recente. Soprattutto vorremmo potenziare il servizio alla persona, che è lo sportello che abbiamo aperto ormai da due anni e che si occupa delle persone che sono state malate di tumore o degli entourage familiari delle persone che hanno avuto questa brutta malattia e che ha il compito di affiancarli nel percorso post-cure, quindi quando il paziente ha terminato le cure in ospedale è lasciato a se stesso e noi vorremmo essere vicino a queste persone per tutte le loro esigenze, che possono essere di natura amministrativa, legale, piuttosto che medica ovviamente, e quindi vorremmo potenziare questa attività. E poi avremo anche, in questi giorni stiamo mettendolo a punto, una nuova release del nostro mammografo digitale. Sarà un aggiornamento molto importante, secondo che viene fatto in Italia, e che ci consentirà di approfondire ulteriormente e di migliorare ulteriormente la capacità diagnostica di questo apparecchio. Quindi faremo delle mammografie sostanzialmente in 3D con questo nuovo sistema, che è un sistema veramente molto interessante dal punto di vista diagnostico. Grazie.